Evento speciale per la festa della donna, quello di domenica 8 marzo al Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo. I comici del San Costanzo Show alle ore 17 e alle 21 metteranno in scena il nuovo spettacolo comico intitolato Il Cognome della Rosa e tra una replica e l'altra brinderanno insieme al pubblico nel foyer per festeggiare la festa della donna con una pericena bio. Lo spettacolo è stato definito dalla critica, un'esplosione di moti di allegria prolungata per due ore e dal pubblico invece esilarante in cui i comici stravolgono i grandi classici della letteratura. Per la prima volta al Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo con un doppio spettacolo alle 5 del pomeriggio e alle 21. La novità è che tra i due spettacoli sia il pubblico del primo all'uscita che il pubblico del secondo spettacolo prima di vederlo potranno fare una pericena diciamo. Invece lo spettacolo come lo definireste? Ah questo non lo so, non c'è un aggettivo per definirlo, è variazioni comico letterarie. Siamo ispirati partendo dal nome della Rosa di Umberto Eco, siamo parlati di Tremoschettieri di Diumala, Divina Commedia di Dante eccetera e affrontiamo a modo nostro i classici della letteratura. E ci saranno anche le signore per bene pesaresi? Sì, per bene lo dici tu perché la signora Scavoloni e la signora Berlini che ormai sono un must con le loro sedie che vagano nel palco e sono ormai in disgrazia. Per chi invece non potesse essere presente l'8 marzo? Ci vediamo la settimana dopo, venerdì 13 marzo al Teatro Sperimentale di Pesaro. Vi aspettiamo a teatro, la biglietteria è sempre all'edicola Pagnoni, venite numerosi, anzi non c'è neanche bisogno di dirlo, siete sempre tantissimi. Grazie, ciao a presto.